Ben trovati i rati G della mobilità, mercoledì 8 dicembre dalle 18, cerimonia di accensione dell'albero di Natale a piazza Venezia e dell'illuminaria di via del Corso, alla presenza del sindaco Gualtieri, dalle 16 previste chiusure nell'area di piazza Venezia, deviazioni o limitazioni temporanee per 32 linee, sempre dalle 16 per le linee 46, 190 e 916, capolinea da piazza Venezia. Sarà spostato a via degli astalli. Il servizio del trasporto pubblico sarà quello festivo, invece non saranno attive le linee speciali est per la chiusura delle scuole.